I sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei sopravvissuti della tragedia di Rigopiano si sono seduti questa mattina a Montesilvano intorno allo stesso tavolo. Il 9 luglio infatti il Consiglio dei Ministri li aveva già convocati per comunicare lo stanziamento di 10 milioni, ormai blindati a dispetto di qualsiasi crisi di governo, destinati ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime del disastro di gennaio 2017. Questo soprattutto a supporto delle spese legali per i processi che si prospettano lunghissimi. Oggi i primi cittadini hanno determinato una commissione, di cui faranno parte, per snellire le procedure, solamente quattro sindaci delegati, quelli dei comuni di residenza con il maggior numero di vittime, ovvero quelli di Loreto, Città Sant'Angelo, Atrie e Pioraco nelle Marche. La commissione a settembre si richierà a Roma, dove comunicherà in che modo, tramite un bando, quei 10 milioni dovranno essere ripartiti. Oggi la riunione è propedeutica poi a una seconda riunione che si terrà a Roma, alla quale parteciperà una rappresentanza ridotta, appunto creata agli fini di essere commissione, che porterà all'attenzione del Consiglio dei Ministri le linee guida poi per creare l'emanazione del bando volto all'aggizione di questi fondi. La procedura sfrutta un decreto già esistente, stipulato per la strage ferroviaria del 2016 tra Andrea Corato.